Al giudice che lo ha interrogato ha detto di avere appiccato il fuoco alla propria abitazione in quanto voleva cacciare da casa gli intrusi che sosteneva occupassero la sua casa. In sintesi è quanto ha dichiarato il cinquantenne arrestato due sere fa dalla polizia con l'accusa di incendio doloso al seguito del rogo che ha distrutto l'abitazione di via Cardinale Dusmet nel quartiere Santa Flavia. L'indagato nel rispondere alla GIP Emanuela Carrabotta ha dichiarato di soffrire di depressione, di non mangiare da diversi giorni, sostenendo che quando era al buio da solo in casa sentiva i rumori causati da persone che occupavano l'abitazione, sporcavano e rompevano oggetti e che si nascondevano non appena accendeva le luci. E allora per farli scappare ha appiccato il fuoco in modo che il fumo causato dall'incendio li costringesse a uscire. In base alla versione sostenuta dall'uomo l'avvocato difensore Giuseppe Daqui ha chiesto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere dell'indagato, oltre a sollecitare gli arresti ospedalieri in una struttura psichiatrica. L'uomo ha anche sostenuto di essere attualmente in cura al Dipartimento di Salute Mentale. La PM Simona Russo ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. L'uomo era stato arrestato dalla polizia la sera stessa dell'incendio dopo essere stato sorpreso con l'accendino in mano, mentre vagava in via Dusmet subito dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ora si attende che la Jeep Carrabotta faccia conoscere la propria decisione.